Quattro, tre, due, attenzione, billboard! Sto per entrare nello studio di Mattia, mancano ancora tre minuti, quindi è il tempo di fare l'ultimo trucco, ne vado e indovina chi c'è a cena, chi c'è a cena, ma ci sono io. Ci vediamo, ciao! E' tornata a trovare, amici, con grande piacere! Mi metto il filtro. Andiamo a cucinare, va! Io mi sono vestita così perché ho detto, ma no, mi invito a cena, non mi farà fare niente, invece, cavolo! Devo la far cucinare tanto, perché sennò dopo se hai con la testa bassa non la vediamo. Ok. Cosa? Mi ha detto di non farti cucinare troppo, perché sennò dopo sei impegnato a cucinare e tu sei troverso la macchia e ti rivediamo. Ciao, ciao, ciao. Che malvi! Ma che malvi? A chi, a chi? Dovessi caschicare qua? Dovessimo Dovessimo La cucina, la cucina Fantastico Questa cucina È un'altra scemografia È più bella Wow, senti che odore Amore Amore Madre mia E' premissima Amici, benvenuti Questa è Indovina Chi viene a Cera Sempre su Arturo Naturalmente Oggi ci sarà con noi Un altro ospite E' tornata a trovarci La bellissima Nina Soltano Buonasera Buonasera Ciao Bentornata Che bella Wow Ma è una città Perché è nuova È nuova Tutto nuova Visto? Ammazza come sei in ginga Beh scusa Cioè Indovina Che vieni a cena O dovevo mettermi Però lo sai che vuole cucinare No Eh già Le faremo sporcare le mani Con una bavarese No Cioè voglio dire Che stica così Tu mi fai cucinare Poco o poco Va bene Come vuoi Tu Allora Che vuoi cucinare No? Che vuole cucina No? Quei cosa vuole Cosa? Che vuole cucina Grazie a tutti. 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 Un bacio a tutti e spero presto. E ragazzi, mi rassontano. Non so se ne spieghi. Non so se ne spieghi. Assoluti. Grazie a tutti.